Noi abbiamo trattamenti pensionistici sostanzialmente bassi e un incremento importante del costo della vita. Si capisce quindi che abbiamo una vasta fascia di popolazione destinata alla povertà. I più ricchi in media nel veneziano e i più poveri nel rodigino. Ma attenzione, la parola ricchi qui è una iperbole perché parliamo di poco più di 1000 euro lordi al mese. Lo SPIGL del Veneto mette in fila i primi dati sulle pensioni di vecchiaia del settore privato del 2023 in attesa dei numeri definitivi sulle dichiarazioni IRPEF e il risultato è più che preoccupante. A fronte di un assegno mensile medio di circa 1260 euro lordi, il 40% dei trattamenti di vecchiaia è inferiore ai 1000 euro mensili. Per la maggior parte dei pensionati questa è l'unica entrata con la quale affrontare l'inflazione galoppante che ha toccato picchi storici soprattutto in settori strategici come le bollette di luce e gas e il carrello della spesa. Da questo punto di vista il sindacato ha calcolato che nel 2023 gli anziani veneti hanno sborsato circa 1000 euro in più del 2022 e 2500 euro in più del 2021. A livello provinciale non mancano differenze notevoli. I numeri migliori, seppure sempre bassi, si trovano nel veneziano dove la media delle pensioni è di 1352 euro al mese. A seguire, seppure indicativamente, troviamo Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Verona e Rovigo. Fanalino di coda con 1156 euro lordi mensili. Nella mappa degli importi ancora più emblematiche sono le medie che si registrano all'interno dei vari territori comunali. Tanto per intenderci, il comune con le pensioni di vecchiaie più alte è Spinea nel veneziano che può contare su un importo medio di 1592 euro. A Zopè di Cadore nel belunese l'importo cala drasticamente a 561 euro mensili. L'indagine conferma infine ancora una volta le enormi differenze tra pensioni maschili e pensioni femminili. Sempre prendendo in esame gli assegni di vecchiaie del settore privato, l'importo medio delle pensioni in capo agli uomini arriva a 1569 euro, quasi il doppio rispetto agli assegni percepiti dalle donne, con appena 825 euro al mese. Aggiungo che questi dati di pensione che abbiamo visto sono ancora pensioni costruite col sistema retributivo. Da qui a qualche anno cominceremo ad avere pensioni costruite col sistema contributivo, e cioè strutturate sulla base dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa. Ecco, che ha, diciamo, un trattamento, che ha prevedo trattamenti economici inferiori e se a questo si aggiunge che ormai sono diffusissimi i lavori precari, saltuari, intermittenti, si capisce che noi rischiamo di avere da qui a breve fasce molto larghe di cittadini poveri.